Quando parliamo di ricerca dobbiamo distinguere innanzitutto tra il filone della ricerca di base con la quale si intende quella ricerca che viene fatta nei laboratori. Sono le prime sperimentazioni che permettono poi di dare adito agli studi che utilizzeranno dei farmaci nell'uomo. Ed invece poi le sperimentazioni che avvengono nell'uomo che sono proprio quelle sperimentazioni dove basandoci su un razionale che proviene dalla ricerca di base si cominciano a sperimentare sull'uomo nuovi medicinali. I pazienti devono essere correttamente informati per poter correttamente scegliere. Ovviamente noi abbiamo il compito di stare accanto a loro per spiegare, per rendere più comprensibili le cose che stiamo loro proponendo, cercando di spiegarle in un modo che sia semplice, ma che riesca ad aumentare anche la loro aderenza al trattamento e a capire il perché di certe scelte o il perché di non altre scelte. L'inematologia è la ricerca da decenni ha abbandonato completamente l'uso dei vecchi tradizionali chemioterapici e si rivolge come anche in campo oncologico in due principali discipline che sono quelle dell'immunoterapia, quindi sfruttare il proprio sistema immunitario per contrastare lo sviluppo e la terapia dei tumori, da un l'altro quelle che sono le terapie bersaglio. Ora conosciamo molto meglio la biologia di queste malattie e grazie a questo abbiamo permesso di identificare dei farmaci che vanno a colpire dei meccanismi specifici della malattia senza dare tossicità negli altri tessuti. In oncologia stiamo assistendo fortunatamente a un'innovazione enorme grazie alla scoperta dei macchinismi più profondi, proprio molecolari, che portano alla genesi, all'origine dei tumori e sui quali in alcuni casi sono stati scoperti e continuano a essere perseguiti come oggetto di ricerca appunto farmaci che possano in qualche modo interferire con la proliferazione, con la trasformazione da cellula sana a cellula malata che si può bloccare, quindi far regredire e curare in un modo molto più efficace perché è mirato, targettato. Grazie a tutti!